Musica Benvenuti in questa puntata del TG Starter Gaming In questa puntata volevo dirvi una cosa importante del mio canale Ovvero che ho deciso di cambiare nome Perché? Perché se si cerca su YouTube Starter Gaming senza l'underscore Si può notare che si trova di tutto purché il mio canale Nei primi risultati Se invece si cerca Starter Gaming con l'underscore Si trova sì il mio canale e alcuni miei video Però si trova anche degli altri video Un altro video che non è il mio Perché se è andato nel mio canale quel video non c'è Quindi ho deciso Non come altri YouTuber Che scrivi il loro nome anche in un modo diverso Come è scritto sul loro canale e si trova Quindi ho deciso di cambiare nome E per questo Volevo Super Gaming Sempre con l'acronimo gaming Perché porto giochi Mi piacciono tanti i giochi Porto anche i tutorial Però c'è anche un motivo più preciso Che magari vi dirò in un futuro più lontano Comunque Ho deciso Cioè Super Gaming era usato Ball of Rocket Gaming Ho usato pure quello E poi dopo mezz'ora che ci ho pensato Mi è venuto in mente Green Blue Gaming Che sarebbe Green sarebbe il verde Blue sarebbe il blu Quindi i miei due colori preferiti Il verde e il mio assoluto E il blu Anzi più l'azzurro Il mio secondo Quello preferito Che l'ho anche il quello preferito di Niklem Ma va bene Si può notare anche dalla mia skin Non so perché SG l'ho fatto blu Però mi piace molto Mi piace molto anche blu Quindi Green Blue Gaming Non era usato C'era Blue Green Gaming Ma Green Blue Gaming è una cosa Blue Green Baby Baby si è certo Blue Green Gaming E quindi Ho deciso Di Mettere Green Blue Gaming È un po' difficile pronunciare Però alla fine mi abituirò Ovviamente Dovrò cambiare Logo Nome di questa serie E Un po' di cose Come ad esempio La intro E l'altro Quindi al posto di dire Breaking String E Breaking questo nuovo video Dirò E Devo come Devo anche decidere Come chiamare Gli iscritti Perché non posso chiamare Gli Starterings No Sempre con la Però magari sempre con la Con l'acronimo Rings No Non c'entra niente con le Wings Quindi devo decidere Come Però lo stile Lo voglio lasciare sempre quello Quindi Vedrò un po' come cambiare Magari la settimana prossima Non usciranno video Quindi Per Devo decidere Come fare Devo allenarmi Nella pronuncia Diciamo Perché ormai Mi ho sabato Di dire Breaking String E Breaking Questo nuovo video Perché Per chi non l'ha mai capito Dico E Bella tutti i Starterings Che sarebbero Il nome Dei miei iscritti Qui Starter Gaming E benvenuti In questo nuovo video L'outro Quindi Se vi faccio Mettere i piace Iscriviti C'è un prossimo video No C'è anche altre cose Devo cambiare un po' Qualcosa Quindi magari La settimana prossima Non cambierà Non caricherò video O Perlomeno pubblicherò Però Piano piano Cambierò Intro Outro Logo Miniatura Pure Perché devo cambiare Il nome E quindi niente Questa è la puntata Del TG Starter Gaming Più lunga Perché sono 4 minuti Di solito ne faccio 2 Quindi se vi faccio Vi faccio Vi faccio In un prossimo video Da Starter Gaming Devo anche cambiare La skin di Minecraft Vi faccio La G Quindi se vi faccio Vi faccio Vi faccio Vi faccio In un prossimo video Da Starter Gaming Ciao